Il meteo incerto di questi giorni rende sempre più precaria la situazione della frazione pesarese di Villabetti, dove in via Molini da tre mesi è presente un tratto di strada franato e letteralmente sprofondato a pochi metri dalle abitazioni. Residenti estremamente preoccupati dopo che sabato è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco al cospetto del progressivo avanzare della voragine che ha coinvolto 25 metri di sede stradale. La polizia locale ha transennato la strada per interdire il transito dei veicoli, ma al di là delle difficoltà di viabilità, compreso il dirottamento degli autobus, sono le abitazioni a vivere in stato d'apprensione. Il comune di Pesaro è intervenuto con una serie di studi geologici per comprendere le cause del deterioramento stradale e indirizzare gli interventi di conseguenza. Soluzioni che potrebbero già prendere una direzione concreta venerdì 28 aprile quando sarà proposta una variazione di bilancio con stanziamento di circa 50.000 euro per intervenire con tempestività su frana e messa in sicurezza.